Sindaco Lamera, un commento su questa scritta che vive apparsa su un muro di Romano? Mi preme dire che come prima cosa appena saputo l'apparizione di questa scritta abbiamo subito incaricato gli uffici per toglierla, cancellarla perché sono azioni che vengono fatte di pancia che non fanno il bene il ricordo della nostra Italia e delle sofferenze che il regime ha portato nella nostra Italia. Purtroppo il caso mediatico è talmente così elevato anche a livello nazionale che in qualsiasi contesto possono esistere delle riminiscenze di apologia che porta a queste scritte. Ovviamente come sindaco e come istituzione condanno fortemente l'apparizione di questa scritta che non dà denità e decenza a quello che è un territorio italiano al di là del territorio romanese. Quindi cancellerete subito questa scritta? Si, 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 verrà subito cancellata perché bisogna rispettare quello che è la storia, la sofferenza che il regime e in particolar modo l'invasione nazista prodotto sul nostro territorio.